Scusate È scambio in fase Se fai il vetro o il vetro? Quanti litri di vetro tiene con il territorio? Scusate 4 litri Gianni ha detto che questo bucket può contenere circa 3.5-4 litri Non lo facciamo con il vetro Quindi Gianni per fare questo lavoro qua io volevo due persone secondo ti? Sì E Gianni ha detto che per fare il lavoro bisogna due persone Solo una persona non può fare un buon lavoro Appendian Ricco Per fare un buon lavoro e anche per fare un buon lavoro La prima volta da fare un buon lavoro